Musica Buongiorno, bentrovati al TG2000. I titoli di questa edizione, il trionfo dei 5 stelle ai ballottaggi Roma e Torino, conquistate da due donne del movimento, il PD ammette la sconfitta e fa i conti col messaggio. In arrivo dalle urne vincono i volti giovani, dice il Premier. Meno tre giorni al voto, la Gran Bretagna si prepara al referendum di giovedì prossimo e l'uccisione della laburista Joe Cox sposta adesso le previsioni in testa, i cosiddetti Be Remain, il movimento che spinge cioè per rimanere nell'Unione Europea. Vogliamo stare con loro, anche Papa Francesco fa suo lo slogan in difesa dei rifugiati di cui oggi ricorre la giornata mondiale. L'ONU diffonde i dati aggiornati, 65 milioni di persone in tutto il mondo non ha più né casa né patria. Weekend di sangue sulle strade, la legge sull'omicidio stradale non ferma, la strage infinita, 4 morti e 10 feriti nelle ultime 48 ore, gli incidenti più gravi sulle grandi direttrici del nord Italia. Dunque in apertura l'esito dei ballottaggi nei 123 comuni dove ieri si è votato, a Roma e Torino trionfano le donne 5 stelle, il PD parla di sconfitta senza attenuanti, sarò il sindaco di tutti, dice però la Raggi nella capitale che assicura la linea dell'onestà. Ricuciremo una città ferita, le fa eco da Torino la Appendino. Subito con Federico Plotti i numeri del voto, poi da Milano Luciano Piscaglia ci racconta la vittoria di misura di Giuseppe Sala e del PD. Vediamo. Tutto come da programma o forse no. Tra debacle clamorose, recuperi prodigiosi e nette affermazioni, questa tornata elettorale e amministrativa ha riservato diverse sorprese e soprattutto nelle grandi città dove si concentrava anche l'attenzione della politica nazionale. La vera novità arriva da Torino dove il recupero della 32enne candidata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, ha del clamoroso. Voto dopo voto ha superato nettamente il sindaco uscente Piero Fassino, dato per vincente addirittura il primo turno e così alla fine con il 54,56% delle preferenze è lei che siederà sulla poltrona di primo cittadino. Previsioni aspettative rispettate invece a Bologna dove Virginio Merola, centrosinistra, con il 54,64% dei voti, si è riconfermato sindaco vincendo il ballottaggio con la candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni, staccata di quasi 9 punti percentuali. A Roma ha festeggiato tutta la notte la grillina Virginia Raggi. Per lei un vero e proprio plebiscito, una vittoria schiacciante sul suo contendente, Roberto Giacchetti, partito democratico, che ha incassato meno della metà dei suoi voti. Il 67,15% dei romani l'ha scelta per occupare la poltrona di sindaco per i prossimi cinque anni. Mi sento di dire che questo è un momento storico fondamentale, segna una svolta. Per la prima volta Roma ha un sindaco donna. Altra affermazione netta, quella a Napoli del sindaco uscente Luigi De Magistris. Anche se la percentuale dei votanti non ha superato il 36%, i pochi napoletani che si sono recati ai seggi hanno scelto ancora lui. Un'affermazione netta, 66,85% contro il 33,25% dell'avversario e candidato del centrodestra Gianni Lettieri. Per un pugno di voti. Giuseppe Sala è il nuovo sindaco di Milano, ha raccolto il 51,7% delle preferenze, mentre Stefano Parisi si è fermato al 48,3%. Alla fine solo 17.500 voti hanno separato i due candidati e decretato la vittoria sul filo del rasoio dell'ex commissario di Expo, che succede ora a Giuliano Pisapia sulla poltrona più alta di Palazzo Marino. Un risultato rimasto in bilico fino all'ultimo. Un risultato non scontato, ha detto Sala ricevendo le congratulazioni dello stesso Parisi. Ora è il momento delle analisi. Si peseranno i voti della minoranza PD, si cercherà di capire che fine hanno fatto i voti grillini, si discuterà anche nel centro-destra, dove si vede comunque nello sconfitto Stefano Parisi, l'unico in grado di riunire uno schieramento orfano di un leader. Si guarderà a Matteo Renzi. La vittoria di Sala sarà anche la sua e sarà sufficiente a compensare le sconfitte subite e ad alimentare il processo di rinnovamento faticosamente avviato. Ma toccherà soprattutto a Giuseppe Sala rispondere alle domande più importanti. quali saranno gli elementi di continuità e quali di novità rispetto alla precedente giunta di Giuliano Pisapia. Ma soprattutto come contrastare la sfiducia dei milanesi che si sono astenuti. Ha votato infatti solo il 51,4% degli aventi diritto. È un dato storico, non era mai accaduto che un milanese su due disertasse le urne. E l'esito del voto alle amministrative si ripercuote inevitabilmente sul piano nazionale. È soltanto l'inizio, dice Beppe Grillo, mentre lo stesso direttorio pentastellato ammette che le dimensioni del successo hanno superato ogni aspettativa. Scenari ed equilibri rispetto alla politica ora del Paese li vediamo con Augusto Cantelmi. Un voto locale con implicazioni nazionali. E comunque lo si guardi, il dato politico del ballottaggio appare in tutta la sua disarmante chiarezza. Nonostante fosse un'elezione amministrativa e nonostante la vittoria di Milano, Renzi ne esce comunque sconfitto e il governo indebolito. A Roma, come a Torino, vince il Movimento 5 Stelle capace di intercettare al secondo turno gli elettori del centro-destra incrementando il bacino di voti. Non accade invece il contrario con i grillini che non sostengono i candidati del centro-destra Milano e Bologna. Pentastellati che ora puntano alla guida del Paese, magari con Luigi Di Maio. Il Partito Democratico invece si lecca le ferite. Venerdì ci sarà la direzione al Nazareno e il segretario Renzi dovrà dare una spiegazione della sconfitta. Magari rivedere la sua strategia politica in vista del referendum di ottobre. Ma il Premier sarà pronto a cambiare la legge elettorale? Proverà a dividere il destino della riforma dal suo? Se così non fosse l'ex sindaco di Firenze per molti, si incamminerebbe verso il più classico dei suicidi politici. Ma se il PD è con le spalle al muro, anche al centro-destra non resta che piangere a parte Savone e Trieste. Per il resto è una sconfitta dopo l'altra e il declino di Berlusconi pesa, mentre la leadership di Salvini non è mai nata. La lotta alla politica collusa con la maxi-operazione della polizia di Stato contro il traffico illecito di rifiuti in provincia di Genova. Gestito da esponenti dell'Andrangheta c'è anche il sindaco di Lavagna. 12.000 abitanti alle porte del capologo Ligure è finito oggi ai domiciliari. In manette anche un consigliere comunale eletto in una lista civica nel corso dell'operazione sequestrati i beni mobili, immobili, depositi, bancari e società per un valore di 2 milioni di euro nella disponibilità di affiliati all'Andrina di Condofuri in provincia di Reggio Calabria. Ha sequestrato il sito Stoccaggio Rifiuti, una rete di bar e chioschetti disseminati sul territorio Ligure e accertate una serie di gravi violazioni della normativa ambientale con documenti falsi e smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti pericolosi. 8.000 arrestati perquisizioni ancora in corso in questi minuti nella sede della provincia. Dalla Liguria alla Campania per un altro giro di malaffare maxi-operazione anticamora con oltre 300 carabinieri impegnati, 90 gli arresti spiccati stamattina accusate a vario titolo di far parte del clan D'Amico attivo alla periferia del capoluogo Campano. I reati ipotizzati, associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, narcotraffico, detenzione, porto abusivo di armi da fuoco. I carabinieri hanno letteralmente circondato tutto il rione di case popolari denominato Conocal dove 90 arrestati controllavano lo spaccio e il racket delle estorsioni. Vogliamo all'estero in Gran Bretagna dove dopo l'uccisione della deputata laburista Gio Cox per mano di un estremista di destra, area di cambiamento sul voto di giovedì prossimo, secondo i primi sondaggi pubblicati in queste ore, balza in avanti il movimento Remain che intende cioè rimanere nell'Unione Europea. Seguiamo Giorgio Schiavoni. E' cambiato il vento in Gran Bretagna. L'esito del referendum di giovedì sull'adesione del paese all'Unione Europea è stato fortemente influenzato dall'uccisione della parlamentare laburista della scorsa settimana. Tutti i sondaggi effettuati dopo l'omicidio danno i fautori della permanenza nel lui in vantaggio. Così come le società di scommesse e i bookmakers registrano una massiccia avanzata delle probabilità di un Remain. La vittima Gio Cox era convintamente filoeuropea, mentre l'assassino Thomas Mayer, di cui oggi riprende il processo, è un estremista nazionalista favorevole alla fuoriuscita del Regno Unito dal Consesso Europeo. E' come se parecchi elettori avessero aperto gli occhi sugli eccessi di una campagna pro-Brexit che ha demonizzato gli immigrati provenienti dagli altri paesi dell'Europa, scaricando su di loro tutti i problemi del paese. Positiva la risposta dei mercati, le borse sono tutte in positivo, lo spettro della Brexit, fonte di rischi e instabilità per un'economia europea e mondiale in affanno, si allontana e gli operatori finanziari tirano un sospiro di sollievo. Il Parlamento britannico si riunisce oggi per rendere omaggio alla giovane deputata che stava lavorando a un rapporto sulle violenze e i danni dei musulmani nella sua circoscrizione elettorale. Nell'ultimo anno sono quasi raddoppiate, aveva scoperto la Cox, soprattutto per mano di xenofobi e ultranazionalisti. Ora la notizia di cronaca di questa mattina. Un neonato è stato ritrovato in un cassonetto dell'immondizia col cordone ombelicale ancora attaccato in pieno centro. Siamo a Santa Maria di Sala, 20 chilometri da Venezia. Per fortuna il piccolo è vivo. Una donna, stando a quanto riferisce il gazzettino, avrebbe sentito nella notte il pianto disperato del piccolo provenire dal bidone dei rifiuti, ha dato l'allarme all'arrivo dei soccorsi. Il neonato, carnagione bianca, è apparso affamato ma in buone condizioni. Adesso è ricoverato in ospedale per accertamenti. Sulle strade italiane invece si continua a morire. Nonostante l'introduzione del reato di omicidio stradale, quello che si chiude è un fine settimana di sangue. Due morti e quattro feriti a Trieste per un maxi incidente, altre due vittime e sei feriti sulla Torino-Savona per uno scontro con un autobus. Marco Bergamaschi. Una norma che a tre mesi dal Varo purtroppo non ha fatto calare significativamente incidenti e vittime della strada. Stiamo parlando del reato di omicidio stradale, introdotto a marzo per colpire i pirati della strada, che tra l'altro prevede pene fino a 18 anni di carcere e il ritiro della patente è prolungato fino a 30 anni nel caso ci sia omissione di soccorso. Solo nell'ultima settimana la cronaca parla di due arresti con questa accusa. Nel Siracusano ha fermato un neopatentato 19enne che ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un muro. A bordo un 18enne ha perso la vita. Dagli accertamenti il guidatore è risultato positivo all'alcol test. Arrestato anche un 35enne di origine romena che a Taranto ha travolto e ucciso una mamma a passeggio con una delle figlie per poi fuggire senza fermarsi. 12 gli arresti eseguiti tra maggio e giugno, questo nonostante l'inasprimento della normativa voluto dalla legge 41 che con l'introduzione appunto dell'omicidio stradale ha sancito l'innalzamento da 7 a 18 anni del periodo massimo di reclusione e nonostante l'arresto in fragranza di reato che oggi avviene in caso di circostanze aggravanti tra le quali l'accertato abuso di droga e di alcol. Un popolo senza patria. Si celebra oggi la giornata mondiale del rifugiato. L'ONU diffonde i numeri dell'ultimo anno. 65 milioni in tutto il mondo hanno lasciato le loro case. 21 milioni hanno abbandonato il loro paese. Gli altri 40 milioni non hanno più casa. Noi vogliamo stare con loro, ha detto il Papa ieri all'Angelus. Seguiamo Francesco Durante. Costretti a fuggire dalle loro case e dai paesi in cui vivono perché lì ci sono guerre, persecuzioni e violenze. Migranti forzati che nel 2015 sono stati 65 milioni e 300 mila. Un drammatico record, quasi 6 milioni in più rispetto all'anno precedente. Di questi oltre la metà proviene da Siria, Afghanistan e Somalia. Si calcola che nel mondo una persona su 113 è un richiedente asilo, sfollato interno o rifugiato. Ogni minuto 24 persone sono costrette a fuggire. I dati emergono dal rapporto annuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si celebra oggi. La preoccupazione maggiore è per i bambini che nel 2015 hanno rappresentato il 51% dei rifugiati, molti di loro separati dai propri genitori o comunque non accompagnati durante il difficile viaggio. Nella geografia delle migrazioni forzate al primo posto troviamo il Medio Oriente, anzitutto la Siria con la guerra che ha dato origine ad almeno 4,9 milioni di rifugiati e 6,6 milioni di sfollati interni. La Turchia è il principale paese ospitante con 2 milioni e mezzo di rifugiati, ma negli ultimi mesi Ankara ha rafforzato le misure di sicurezza ai confini e proprio ieri almeno 8 profughi siriani, tra cui 4 bambini, sono stati uccisi dall'esercito turco mentre tentavano di attraversare la frontiera. Un'ennesima tragedia della disperazione, consumatasi alla vigilia della Giornata Mondiale del Rifugiato, ricordata ieri dal Papa all'Angelus Domenicale. Con i rifugiati noi stiamo dalla parte di chi è costretto a fuggire, questo è il tema scelto dalle Nazioni Unite per la ricorrenza che ha dato occasione a Francesco per risvegliare ancora una volta le coscienze del mondo. I rifugiati sono persone come tutti, ma alle quali la guerra ha tolto casa, lavoro, parenti, amici. Le loro storie e i loro volti ci chiamano a rinnovare l'impegno per costruire la pace nella giustizia. Per questo vogliamo stare con loro, incontrarli, accoglierli, ascoltarli per diventare insieme artigiani di pace secondo la volontà di Dio. Veniamo proprio alle parole del Papa stamattina a Santa Marta. Prima di giudicare gli altri, i cristiani, si guardino allo specchio. Così il Pontefice durante l'ultima omelia prima della pausa estiva, come riferisce stamattina Radio Vaticana, il giudizio appartiene soltanto a Dio, ha spiegato Francesco. Ma ascoltiamo le parole del Papa. Guardati allo specchio per guardarti come tu sei. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza del tuo occhio mentre al tuo occhio c'è la trave? E come qualifica il Signore a noi quando facciamo questo? Una sola parola, ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Per questo è tanto brutto giudicare. Il giudizio solo a Dio, solo a Lui. A noi l'amore, la comprensione, il pregare per gli altri quando vediamo cose che non sono buone. Ma anche parlarli. Ma senti, io vedo questo, forse, ma mai giudicare. Mai. E questo è ipocrisia se noi giudichiamo. Ci fermiamo qui, vi lascio ora a terza pagina. Pierluigi Vito ci propone un approfondimento sull'ultimo romanzo autobiografico di Vittorio Sermonti che riannoda il filo della memoria sul periodo della seconda guerra mondiale. Il TGV 1000 invece torna alle 18.30 dopo il Rosario da Lourdes. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Grazie per averci seguito.